vabbè vai no 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 non è morto Bleviamo adesso C'è lo sce Pvt Sì sì no Vai 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 a corsa c'è la processione sono passati con i catti vedi certo non può andare con la mano adesso ecco 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 muore no ma io non so con la carta non è la visita sono appena ragazza arriva l'amice ecco ragazzi ragazzi grazie grazie Questo è bellissimo, questo è bellissimo, bellissimo questo, bravissimo Raffi, e ne abbiamo un altro l'ultimo